Buonasera Berlusconi, buonasera Presidente 3 bocconi, 3 bocconi a 3, 3 bocconi a me, lo so ho capito, un attimo, tu di, che cosa c'è? Presidente mi scusi ma... No attenta che mi stai cagando a doscia 3 a te, 2 a 3 Senta ma cosa fa? Ma mangia le crocchette dei cani? No sono loro che mangiano le mie pilole per la pressione Infatti vedi che non si muovono? Ma poverini scusi Sono come astenestizzati Sì? Astenestizzati Cosa? Guardi io mi arrendo, occhio Le lettere ci sono tutte, le mette in ordine lei Anestetizzati Eeeh Cosa c'è? Dudina! Cosa ha fatto? Ma cosa fai? Morri? Ma non la morsica Ma proprio me? Cosa? Che gli ho fatto un bonifico di 5 milioni di euro A Dudina! Allora Peter, allora Peter, allora Peter La smetti di leccare Ma cosa sta facendo? Ma no che ti credi essere? Tagliani? No vabbè adesso non stia Per cui se mi permette Siccome Peter l'ha già portato fuori a pisciare Farei un po' di cuccia No, no Presidente si svegli la prego Allora dicevamo di quanto è stronza la Shanta anche è Giusto? No, 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 no Presidente Non lo diceva nessuno Lo so, è Dudino che me lo sussura Non glielo sta sussurando? Lo sai che quando vado in bagno Sì E Dudino mi lava la schiena a me Io lavo la schiena a Dudino Che lava la schiena a me Che io lavo la schiena a me Perfetto Ce l'ha ancora la schiena? Sì, sì, ce l'ha sicuramente E allora la Shanta anche cosa mi lava? No, non lava niente Anzi la Shanta anche la sta abbandonando La schiena? No, 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 sta abbandonando la sua No, no, no Ma così Non mi caga più nessuno E vabbè Tranne Dudino sul cuscino Va beh, adesso La prego Cervini Perché non mi chiama La menore non mi risponde E anche Cracci c'è da due settimane che non si fa vivo No, guarda che l'onorevole Cracci è morto 19 anni fa Porca miseria Che brutte notizie che mi dà Ma dovrebbe saperlo Perché era E adesso come glielo dico a Andreotti E ma no, ma anche lui Mi faccio fare subito nel telefono No, anche lui tanto Ma non è Cosa fa? Cosa fa, presidente? Cosa fa? È a rotella Non è Ma lo lasci stare, presidente È libero Ma non è un telefono Sento un rumore No, ma guarda Credo che dall'altra parte mi abbia risposto un cane che ha scorreggiato No, no, molli giù quel cane Perché, allora Scusi, presidente Lascio! No, mi faccia dire una cosa Tre, tre Tre, tre, due, tre Non dia da mangiare le pinone della pressione Perché? Lei ha 82 anni e si ricardi dalle europee Però non le conviene fare quello che le consigliano i suoi amici Cioè ritirarsi No? Per far cosa, scusi? No, ma Lei mi ci vede a me A fare pensionata a casa sul divano con i cani? Ma guardi, è lì che lo sta facendo Ma ci immagina? Che signo è patetica Tu dina cosa fai? Stia buono Mi fa la pipì sui pantaloni Ma sono cani Che poi la Pasquale pensa che sono stato io per una volta che non è vero Vabbè, senta, presidente Mamma mia che fatica Allora Diciamo che comunque lei, presidente, non molla Resta in campo Lascio stare questi cani un attimo Ma certo Perché questo paese ha ancora bisogno di me Sì È lei, Berlusconi Capisce? Lo sfogo è anche Mi avvalgo della facoltà di non svegliarmi No, no, presidente La prego Riusciamo a fare Senta Si Proverai ad andare a letto sulle notti con nove cani? Ma io non guardi Poi mi spiega come si fa a non crurare dal sono di giorno Sì, ma quelli sono i cani che diciamo la riducono così La appesantiscono un po' Eh? Cosa c'è? Questo cos'è? È un cane È un cane È un cane E questo? Un altro Un altro Questo è quello di prima? No, sì, è quello di prima Questo? No, quello è un altro Ma quanti cazzo di cani? Non lo so, io pensavo che a lei piacessero i cani Ma no, a me i cani fanno schifo Ma come fanno schifo? Guardi come sono ridotto adesso, sono pieno di peli Eh vabbè, certo C'è li ho dappertutto Sì Me li sento anche in bocca Vabbè, vabbè, lasciamo stare Come ai bei tempi Ahia Solo che una volta non erano di cani